ciao a tutti da vittorio oggi parliamo di andres per era ve l'avevo promesso non sono mai riuscito a farlo ma questa volta è la volta buona ciao a tutti da vittorio oggi parliamo di andres per era perché dopo la partita contro borussia dormun bisogna parlare del brasiliano naturalizzato belga che la lazio ha preso un prestito con diritto di riscatto dal manchester united parliamo secondo me di un giocatore con qualità importanti a mio avviso lui e tuco correa sono stati negli ultimi anni i giocatori con la maggior qualità comprati dalla lazio un giocatore secondo me importante un giocatore che serviva a questa squadra perché quando non c'è luisa alberto manca un play con qualità importanti cataldi può fare regista marco parolo volendo può fare regista ma non hanno la qualità che ha luisa alberto e in campo si vede perché la palla gira più a fatica soprattutto mancano quei guizzi geniali che ha luisa alberto bene con andrea sperera per me la lazio ha un giocatore con caratteristiche leggermente differenti ma con qualità importanti andrea sperera ha tra virgolette fallito manchester united ma non perché non avesse qualità ma perché non aveva la personalità giusta per imporsi allo united in più imporsi allo united negli ultimi anni è difficile perché c'è grandissima pressione la squadra non ha grandissima qualità non è guidata da un grande allenatore capite che far bene all united è difficile non a caso anche polpo sta facendo una fatica enorme allo united per questo andrea sperera è finito in panchina ed è un giocatore che lo united sta cercando di liberarsi di liberarsene per questo la lazio l'ha preso e per me per era può essere un giocatore molto importante per la lazio perché può sostituire luisa alberto ma a mio avviso può anche sostituire il tucco correa un po quello che abbiamo visto nella partita contro borussia dormo prima partita seconda punta dove secondo me fa un po fatica perché può giocare lì ma non è un ruolo che ha ricoperto con continuità e quindi abbiamo visto che ha fatto un po fatica a trovare la posizione non è un vero regista alla lazio alberto è secondo me più un trequartista quindi una via di mezzo fra la seconda punta la ducco correa e regista alla lazio alberto però a grande qualità a grande qualità si è visto ogni volta che tocca il pallone e la cosa che mi è piaciuta molto nella partita contro borussia e che finalmente abbiamo visto anche carattere che è quello che un po manca al giocatore una delle cose che mi hanno detto i giornalisti che seguono manchester united è questa che la tecnica non si discute ma la personalità del ragazzo a manchester non si è vista qua a roma invece secondo me le cose possono andare in modo differenti perché in zaghi è un bravo allenatore è un allenatore che di solito riesce a tirare fuori il meglio da tutti i giocatori a disposizione andrea sperera ha tanta qualità però aiutato da un buon gruppo può tirar fuori il carattere quello che è uscito nella partita contro dormo insomma quando è entrato il brasiliano si ha sbagliato subito un pallone però dopo si è ripreso ed è stato protagonista è stato un buon innesto la lazio con lui ha giocato bene non si è sentita l'assenza di chiuso alberto cosa che invece si sente quando esce ha sfiorato il gol anzi meritava il gol sul portiere dormo faceva un miracolo probabilmente la lazio avrebbe vinto grazie a una punizione di andrea sperera è un giocatore che a roma può trovare l'ambiente giusto per riuscire adesso si parla che contro spezia potrebbe partire titolare secondo me è giusto provarlo è giusto provarlo perché ripeto la qualità c'è deve dimostrare di avere la personalità non deve essere timido se vuoi avere il ruolo di luis alberto non può essere timido devi essere protagonista devi chiedere palla devi far girare il pallone e rischiare perché luis alberto ha delle giocate fantastiche ma sono spesso dei rischi e devi avere il coraggio di rischiare ogni tanto dei passaggi filtranti delle giocate che possono essere sì pericolose ma allo stesso tempo possono decidere la partita andrea sperera secondo me quelle giocate c'è là però le deve fare le deve fare soprattutto un partita importante per cui secondo me giocare sabato sarebbe importante per vedere i progressi ripeto non si discute la qualità si discute il carattere senza senza carattere puoi fare poco ovviamente senza qualità puoi avere anche il carattere che ti pare ma puoi arrivare fino a un certo livello ecco io mi aspetto progressi da andrea sperera a mio avviso la partita contro dormo gli ha dato quella convinzione con la fiducia di poter fare certe cose adesso però bisogna dimostrarle magari partendo dall'inizio magari per 90 minuti perché contro torino ha fatto primo gol in campionato ma io lo dissi si ha segnato ma non ha giocato bene ecco adesso mi aspetto tutte e due le cose non dico che deve segnare però deve fare una buona partita magari regalare qualche assist e fare un passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni a mio avviso a me il ragazzo interessa molto intriga perché vedo che c'è un potenziale importante però non basta solo potenziale adesso bisogna dimostrarlo ciao alla prossima